La notizia di E-Live 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 Una vicenda sicuramente drammatica, poi seguiranno aggiornamenti, quindi staremo a vedere come evolverà la situazione. Torniamo ora alla stretta attualità e lo facciamo come sempre con i dati della diffusione del coronavirus andando sul nostro sito internet. Ecco qua è livebrescia.tv dove come sempre anche nella serata di ieri abbiamo pubblicato il bollettino regionale. Come possiamo vedere sono 350 i casi nel Bresciano, per poco non superiamo Milano e provincia. Questo è il nostro titolo, andiamo a vedere l'infografica regionale per i dati nel dettaglio. Come possiamo vedere davvero solo 23 nuovi positivi separano Brescia da Milano, 350 la nostra provincia, 373 per quanto riguarda Milano, città e Milano provincia. Quindi secondo dato regionale nuovamente per Brescia. Da evidenziare anche il dato di Como che è abbastanza alto, 127, mentre restano abbastanza bassi sotto il centinaio gli incrementi dei positivi per quanto riguarda le altre province. Come vediamo i tamponi effettuati sono stati 23.182 di cui 4.679 sono i test antigenici. Lo sapete ormai da una settimana rientrano anche essi nel computo dei tamponi effettuati. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati, ovvero il tasso di incidenza, si stabilizza attorno al 5.9%. Un dato, dobbiamo dire, molto simile anche se leggermente in crescita a quello dei giorni precedenti. Diamo uno sguardo a quelli che sono i ricoveri dove purtroppo vediamo un nuovo ritorno all'aumento delle terapie intensive. Un più 7 che attualmente porta tutte le terapie intensive lombarde a Covid ad essere in Lombardia 405. Un meno 71 invece è una decrescita, dobbiamo dire, abbastanza importante, abbastanza sensibile per quanto riguarda i ricoveri non in terapia intensiva. Ancora alto, ancora drammaticamente stabile il numero dei decessi che nella giornata di ieri nella nostra regione purtroppo sono stati ancora 44. Un dato che fatica davvero a diminuire, fatica davvero a ridursi. Ed ora torniamo in regione, ricorderete tutta quella che è stata la bagare in merito alla zona rossa, la zona arancione. Infatti la nostra regione, ormai lo sapete, già dalla giornata di ieri è passato un momento in zona arancione. Dopo una settimana in zona rossa pare per un errore. Nella serata di sabato hanno preso parola sia il presidente di regione Lombardia, Tiglio Fontana, sia il vicepresidente e neoassessore al welfare, Letizia Moratti. Non hanno usato mezzi termini, hanno detto chiaramente che non si tratta di un errore che arriva dalla regione. Sono andati a muso duro contro il governo, cercando appunto di dire che si andrà avanti anche dal punto di vista giudiziario per capire quali siano e di chi siano soprattutto realmente le responsabilità. Andiamo con ordine e sentiamo le parole del presidente Fontana. Oggi sono veramente indignato di quello che sto leggendo sui giornali e delle false notizie che sono offensive nei confronti, prima di tutto, della Lombardia e delle persone che lavorano per la Lombardia. Sono indignato perché si sta dando una rappresentazione assolutamente non veritiera dei fatti. Questo è il motivo per il quale io ho chiesto questa convocazione. Partiamo dal presupposto che se da domani la Lombardia tornerà in zona arancione lo deve esclusivamente al fatto che noi abbiamo evidenziato, sottolineato e contestato i conteggi che erano stati fatti dal governo. Subito dopo la presentazione del ricorso è iniziato questo confronto tecnico fra i tecnici dell'assessorato della sanità e i tecnici dell'Istituto Superiore della Sanità. E qui nasce il vero problema. A un certo punto tutti si sono resi conto di una presenza all'interno dell'algoritmo di qualcosa che non funzionava, che non era tale da dare un risultato esatto e che rispondesse alla realtà. E a questo punto, e qui viene il punto che mi fa particolarmente arrabbiare, a questo punto fu l'Istituto Superiore della Sanità, i tecnici dell'Istituto Superiore della Sanità, che parlando con i tecnici dell'assessorato al welfare richiesero di dare dei dati, di valorizzare alcuni dati, di implementare alcune nozioni su loro richiesta. Noi non abbiamo mai sbagliato a dare i nostri dati, non abbiamo mai rettificato i nostri dati, abbiamo semplicemente risposto a una richiesta che proveniva dall'Istituto Superiore della Sanità, per cercare di capire se con questa implementazione si potesse o meno arrivare ad un risultato che era compatibile con la situazione oggettiva della diffusione dell'infezione. Ricorso al TAR? Non è che noi adesso rinunciamo al ricorso al TAR, assolutamente, perché noi pretendiamo che la veridicità dei fatti venga acclarata anche in sede giudiziaria. Noi vogliamo che la situazione venga chiarita una volta per tutte in maniera chiara, perché se c'è un errore non è un errore nostro, non è un errore nell'indicazione dei nostri dati. Parole forti utilizzate dal Presidente di Regione Lombardia, Tiglio Fontana, ma sono altrettanto forti anche quelle dell'assessore al welfare, Tizia Morati, che ha detto anche, pensate, che il Ministero, dopo le varie trattative, avrebbe anche preteso che la Lombardia ammettesse l'errore. Quindi sentiamo le parole del Vice Presidente Lombardo. Con grande lealtà e correttezza, ho instaurato un dialogo tecnico con i tecnici del Ministero. A seguito di questo dialogo tecnico, il Ministro ha confermato che la Regione Lombardia non è zona rossa, ma pretendeva che noi dicessimo che era un errore nostro. Non è stato un errore nostro. I dati che noi abbiamo mandato erano dati corretti. Quindi non abbiamo potuto accettare, per la dignità della Regione, e per quello che l'impatto di essere zona rossa sulla nostra cittadinanza, sulla cittadinanza lombarda, ha comportato. Una vicenda che sicuramente non si concluderà con queste parole, proseguirà in ambito giudiziario e anche nella dialettica politica. Quindi restate collegati con noi anche per sapere, per scoprire come andrà a finire questa intricata vicenda politica e non soltanto. Cambiamo ora argomento, parliamo di cronaca e parliamo purtroppo delle brutte notizie. Un brutto fine settimana nella nostra provincia sul fronte delle valanghe e delle slavine, come avevamo potuto riportare. Nella giornata di sabato la prima slavina venuta a Bienno, la domenica purtroppo c'è stata anche una vittima. Si tratta di un ventenne sul Mortirolo che è stato travolto da una valanga mentre andava in giro sulla sua motoslitta. Purtroppo nonostante i soccorsi siano intervenuti in maniera repentina, non c'è stato nulla da fare. È morto il ventenne travolto dalla slavina mentre viaggiava in motoslitta. Le sue condizioni erano state giudicate dai soccorritori gravissime. Infatti, nonostante la corsa in ospedale, si è spento poco dopo. Era stato trasportato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in eleambulanza dopo essere stato intubato sul posto. Ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. È morto poco dopo il ricovero in ospedale. La valanga si è staccata nella zona di Malga Boschetto in prossimità del passo del Mortirolo, comune di Monno. Immediatamente è scattato l'allarme con l'attivazione di tutti i soccorsi. A coordinare le operazioni, la quinta delegazione bresciana del soccorso alpino è spereologico specializzata negli interventi in impervio e sulla neve. A supportarli, gli operatori del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Edolo e i Vigili del Fuoco con due squadre e un gruppo SAF-Neve, giunti con l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Sul posto, anche gli elicotteri dell'Areo di Brescia e di Bergamo con l'equipe medica e i tecnici del soccorso alpino. Fine settimana, tutt'altro che felice sul fronte delle slavine nella nostra provincia. Nella giornata di sabato se n'era staccata un'altra in località Campolaro a Vienno. Anche in questo caso era stato messo in campo un vasto spiegamento di forze e i soccorritori non escludevano la presenza di alpinisti dispersi al di sotto del muro di neve. Fortunatamente, in questo caso, dopo ore di ricerche, è stato appurato che nessuno era rimasto coinvolto. E sempre per una notizia che riguarda Bienno vi porto sul nostro sito internet live Brescia.tv Come potete vedere, sono in corso attualmente le ricerche a Bienno per ritrovare un escursionista disperso. Vediamo il comunicato del soccorso alpino che ha fatto sapere che questa mattina ha in corso la ricerca di un uomo di 33 anni non rientrato dopo un'escursione nella zona. L'allertamento è arrivato nella notte. Sono impegnati i tecnici della quinta delegazione Bresciana, stazione di Brenno. Quindi anche in questo caso il nostro sito internet live Brescia.tv per tutti gli aggiornamenti. Vedremo se questo ragazzo verrà ritrovato dai soccorritori del soccorso alpino. Vi dobbiamo parlare ora purtroppo di un'altra vittima questa volta non nelle montagne ma sulle strade. Un'altra vittima della strada Bresciana un 55enne di rogno che ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata più volte e poi ha preso fuoco. Finisce violentemente fuori strada con la sua auto che si ribalta più volte e prende fuoco o muore così fra le lamiere contorte della propria auto un 55enne di rogno. Il drammatico incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato sulla strada statale 42 nel territorio del comune di Darfo. Per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti l'auto è finita fuori strada e nel violento urto più volte si è ribaltata fino ad incendiarsi. Per il 55enne al volante dell'auto purtroppo non c'è stato nulla da fare inutile il repentino intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia con un autogru per recuperare la vettura. I rilievi sono invece stati effettuati dai carabinieri. Intervenuti sul posto anche i tecnici dell'ANAS. Ci spostiamo ora invece a Coglio dove uno stalker è stato arrestato è stato scoperto pensate nei pressi della casa della sua ex compagna quando invece c'era un provvedimento del giudice che gli avrebbe impedito di stare in quella zona. Era già stato ammonito con un provvedimento emesso dal questore di Brescia una misura che avrebbe dovuto tenerlo lontano dalla donna che stava da tempo stalkerizzando ma purtroppo nemmeno l'ammonimento era servito. Il giovane originario dell'est Europa è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Coglio durante un servizio perlustrativo a pochi metri dall'abitazione della donna della quale avrebbe dovuto tenersi a debita distanza. I militari non hanno potuto far altro che arrestarlo in flagranza di reato. L'uomo ha reagito violentemente contro i carabinieri che però sono riusciti a dimobilizzarlo. Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza il magistrato ha convalidato il fermo e disposto gli arresti domiciliari. Un altro arresto questa volta sul Garda è per mano degli agenti della Polizia di Stato al termine di un'operazione internazionale. Era residente a Desenzano del Garda ma su di lui pendeva un mandato d'arresto internazionale per contrabbando di sigarette. Si tratta di un uomo di 41 anni di origine rumena condannato nel suo paese a una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. I fatti risalgono al 2008, 2012 e 2016 quando l'uomo faceva parte di un'associazione a delinquere che si occupava di contrabbandare tabacchi lavorati fra Ucraina e Moldavia per aggirare la tassazione nazionale su quel genere di prodotti. Gli agenti del commissariato desenzanese hanno ricevuto una segnalazione da parte del Servizio di Cooperazione Internazionale della Polizia Criminale e quindi hanno di seguito attivato tutti gli accertamenti necessari all'identificazione del ricercato. Una volta ritrovato l'uomo è stato fermato e dopo la compilazione degli atti di rito è stato trasferito nel carcere di Brescia. Sono poi state attivate tutte le procedure necessarie per estradare il contrabbandiere e riportarlo nel suo paese di origine dove dovrà scontare la sua pena. Ora la nostra pagina sportiva pagina sportiva davvero ricca perché parte dello sport bresciano ha già giocato invece ad esempio il Brescia Calcio giocherà questa sera. Andiamo però con ordine lo facciamo parlando della notte magica della Germani della palla Canestro Brescia che nella serata di sabato è riuscita in una vera e propria impresa ovvero batter seppur di appena un punto la Virtus Bologna in trasferta. Una partita di indubbio valore da parte della palla Canestro Brescia praticamente perfetta per tre quarti di gioco. La Leonessa torna a ruggire nell'occasione forse più importante contro l'avversario probabilmente più rinomato. I migliori in campo sicuramente i più discossi Ristic e soprattutto Giordano Bortolani autore di una prova maiuscola. Dopo 20 minuti ottimi la squadra di Buscaglia perde la bussola nel terzo quarto dopo aver tenuto la Virtus sul 40 a 48. Teodosice e Belinelli sono stati i protagonisti della rimonta dei bianconeri 18-4 di parziale e copione che sembrava simile a quello delle ultime uscite. Negli ultimi dieci però succede davvero di tutto in particolare a tre minuti dalla fine. Brescia riesce con Kalinowski a farsi sotto la difesa aggressiva e a zona permette di recuperare più volte il pallone e lanciare le bocche di fuoco. Il risultato è un capovolgimento dietro l'altro con Brescia che alla fine ha la meglio per un solo punto 89-90 e questo basta per dire vittoria. Allora complimenti alla Germani invece questa sera tocca ancora scendere in campo al Brescia Calcio il Rigamonti ospita il Monza il Monza lanciato in Serie A il Monza dell'ex allenatore Brocchi e ovviamente dell'ex rondinella Balotelli che però non sarà della partita infatti il Monza ha fatto sapere che è indisponibile scopriamo però anche nel prossimo servizio quelli che saranno i convocati di Mr. Davide Dionigi e quali anche le sue parole della vigilia. Questa sera alle 21 il Brescia scenderà in campo per il derby Lombardo contro il Monza degli ex Brocchi e Balotelli il primo sarà regolarmente seduto in panchina il secondo invece non tornerà a Brescia da avversario dopo il brutto addio dello scorso anno il club monzese ha infatti diramato la lista di convocati e il numero 45 figura fra gli indisponibili venendo alle rondinelle questi sono i giocatori convocati da Mr. Davide Dionigi fresco di rinnovo contrattuale Joronen Karacic Chancellor Vandeloy Spalek Zamaral Donnarumma Mangraviti Gezzi Aiela Boico Ragusa Iaghiello Bisoli Martella De Sena Verzeni Fritz Johnson Papetti Andrenacci rinnovo ha detto Dionigi e la vigilia contento della fiducia di Cellino ma non cambia nulla nel mio metodo di lavorare nel senso che da quando sono arrivato ho cercato di dare sempre il massimo e così farò anche nelle prossime partite affronteremo un avversario molto forte che punta a salire dritto in A però noi sappiamo il fatto nostro in queste settimane i ragazzi hanno lavorato bene e tanto anche dal punto di vista fisico come sempre segui con noi 90 minuti del Rigamonti in una nuova puntata di Diretta Stadio Fabio Petteno e tutta la sua squadra vi racconteranno il match in diretta su e-live sulla nostra pagina Facebook come sempre inviateci tutti i vostri commenti e le vostre domande con i messaggi Whatsapp al 393 16 16 197 o più semplicemente commentando la diretta Facebook Allora a partire dalle 20 e 30 ovviamente imperdibile l'appuntamento su e-live con Diretta Stadio per seguire Brescia-Monza una partita davvero delicata davvero importante da seguire tutta in diretta con Fabio Petteno e con tutta la sua squadra ovviamente con noi di e-live Prima di chiudere parliamo anche di pallavolo è arrivata purtroppo una sconfitta per l'Atlantide pallavolo Brescia in un palazzetto sicuramente non facile parliamo del palagrotte l'avversario era Castellana sentiamo le parole dopo questo davvero secco dobbiamo dire 3-0 del post-gara così a caldo mi viene da pensare che peccato perché comunque se la siamo giocata su un campo difficile anche senza il ciso è un peccato un peccato perché alla fine eravamo sempre lì però la differenza l'ha fatta secondo me alcuni episodi su dei palloni facili che non avremmo dovuto sbagliare più di tutti il secondo set secondo me abbiamo concesso un po' troppi errori in battuta e niente è andata così e pensiamo alla prossima niente peccato perché eravamo sempre lì punto a punto c'era un po' di delusione ma potevamo fare molto meglio sapevamo che era una squadra forte gli ultimi due set sono partiti sempre bene e dopo pian piano ci hanno recuperato e è andata così peccato passiamo alla prossima e questa era l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale vi ricordo che come sempre tutte le notizie sono in continuo aggiornamento sul nostro sito internet livebrescia.tv dove come sempre oltre a tutte le notizie trovate anche la diretta di e-live eccola qua in questo piccolo box espandibile a tutta pagina visibile anche dai vostri telefoni cellulari e se volete attraverso i banner dedicati potete iscrivervi anche ai nostri canali telegram e livebrescia news e livebrescia sport per ricevere tutte le notizie sui vostri cellulari in conclusione io vi ringrazio per averci seguito vi ricordo di tanti appuntamenti di questa sera alle 18 calciomercato in diretta social e in replica dopo il telegiornale delle 19 quindi 19 telegiornale 19 e 30 la replica di calciomercato e a seguire alle 20 e 30 torna diretta a stadio per seguire Brescia Monza un nuovo momento un ringraziamento per averci seguito una buona settimana a tutti voi e a presto puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet puoi ascoltarla in versione podcast su Spotify Apple Podcast Spreaker e Google Podcast e Google Podcast di problema Google Cast